L'Abruzzo fa la parte del leone se si parla di borghi, ne ha più di 20 straordinari, così nel settembre del 2022 due località abruzzesi, Abateggio e Caramanico Terme, rappresenteranno l'Abruzzo al 14esimo Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, con Avelli che pure avrà una bella vetrina partecipando a una trasmissione nazionale. Il festival è organizzato dall'Associazione Borghi Più Belli d'Italia su Impulso del Lanci e in Italia raccoglie 316 comuni, fatto per valorizzare il grande patrimonio dei piccoli centri che a volte rimangono fuori dai flussi turistici. L'estate 2020 anche in Abruzzo ha portato a una riscoperta dei borghi. Il festival torna nel 2022, come si diceva, l'ultima edizione del 2013. È stata ospirata nell'Aquilano da Castel del Monte, Navelli e Santo Stefano di Sessanio. Antonio Di Marco è il presidente dell'Associazione Abruzzo e Molise. La Regione Abruzzo ha ben 25 comuni rappresentati. L'assessore all'era interna Guido Liris ha ribadito l'importanza dei borghi per attrarre turismo e trasformarli in economia. La stessa cosa ha fatto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, presente in conferenza stampa. Accendere i riflettori del nostro Abruzzo sui piccoli borghi significa valorizzare quelle identità e quelle particolarità che sono rimaste tali negli anni e che devono vedere anche motivo di afflusso turistico con una possibilità da parte nostra di trasformare turismo in economia. È quello che si aspettano i cittadini che sono sopravvissuti in questi piccoli borghi, nonostante tutto, con forza, con tenacia. È una possibilità in più anche a livello lavorativo che dobbiamo fornire a delle realtà che molto spesso sono marginali, sono montane, ma forse anche per questo hanno mantenuto tutto quello che di positiva avevano maturato e costruito nei secoli passati. A settembre del 2022 il festival sarà per tre giorni, ma ci saranno delle tappe di accompagnamento con convegni, tavole rotonde e turne, quattro capoluoghi di provincia con un grande evento a Pescara e a Piazza Salotto. Nella conferenza c'erano anche molti sindaci abruzzesi.